Ad Adi Expo è presente Videotech. Enrico Danni, qual è il valore di questa collaborazione con Adi? Buongiorno a tutti, siamo molto contenti di essere stati invitati da Adi a prendere parte al loro Expo in Italia. Adi per noi è un partner importante non soltanto per il mercato italiano ma per tutto il mercato europeo. È un partner importante perché le competenze tecniche professionali nell'ambito della televisione da circuito chiuso sono di alto livello e ben si sposano con i prodotti che noi progettiamo e sviluppiamo in Italia che sono di alto livello. Qui avete tre prodotti in particolare che presentate, quali sono? Sì, presentiamo la gamma delle custodie dedicate alle telecamere network, presentiamo l'Ulisse Compact che è un brandeggio ad alta velocità che ruota a 200 gradi al secondo e poi presentiamo Albert che è il nostro sistema di video analisi intelligente del video.